Il corso Intelligenti contro lo stress offre un approccio innovativo alla gestione dello stress, centrato sul riconoscimento e la valorizzazione delle emozioni, senza etichettarle come buone o cattive. Attraverso un dibattito attivo e concreto, i partecipanti esplorano strategie basate su studi accademici e organizzativi, con ampio spazio per condividere. Esperienze personali. L'obiettivo è fornire strumenti pratici per gestire le emozioni in contesti di alta pressione, migliorando le relazioni lavorative e mantenendo la concentrazione sugli obiettivi, con impatti positivi sulle prestazioni individuali e aziendali. Puoi scegliere se seguire il corso in modalità interaziendale nelle date programmate oppure organizzarlo presso la tua azienda, personalizzandolo sulle tue esigenze. Entrambe le modalità possono essere finanziate con fondi impresa o fondi dirigenti.